Andy Warhol torna a Napoli dal 18 aprile, Palazzo delle Arti ospita Vetrine, un percorso che raccoglie 180 opere e approfondisce in particolare il rapporto di Warhol con la città partenopea. Un legame, quello tra l'artista americano e Napoli, nato negli anni 70 grazie all'amicizia con il gallerista Lucio Amedio. Questo allestimento, aperto al pubblico fino al 20 luglio, si snoda proprio attraverso i ritratti dei personaggi noti della città che Warhol conobbe durante le sue visite in Italia.